dal pensiero di san pio del 29 di ottobre mese del santo rosario chi non medita può fare come colui che non si specchia mai e che quindi non si cura mai di uscire ordinato poiché può essere imbrattato senza saperlo questo pensiero è stato tratto dal libro padre pio un pensiero per ogni giorno dell'anno edito da shalom grazie